Traviamo l'andatura pienissimo, quindi a 10-15 a 9 per rimanere compattati per tutto il giro. Quindi vi raccomando l'ambulanza chiuderà con la copertura del posto e noi faremo l'andatura piano piano per tutti quanti. Nelle strade più grandi manteniamo la destra. Ok, allora siamo pronti per partire. Mi raccomando è l'ultimo giro che sia il più bello per divertirci e chiedere in bellezza. Andate a posto, non c'è una paura. Grazie a tutti. Grazie a tutti.